Io sono Anna Lisa Orlando e sono responsabile marketing per la ditta Screenint e in questo momento ci troviamo all'InfoCon Middle East in Africa a Dubai edizione 2013, per noi è la seconda edizione in questa fiera. La prima edizione è stata un'edizione di successo che ha avuto sicuramente dei buoni contatti per potenziali clienti e quindi abbiamo deciso ovviamente di ripresentarci a questa seconda edizione, seconda per noi chiaramente. In questo mercato che è comunque un mercato, il mercato medio orientale è un mercato in evoluzione, in continua espansione, si vede anche proprio dalla città stessa di Dubai che tutto è un cantiere in via di progresso, in via di costruzione e c'è tanto da costruire e sicuramente loro hanno le potenzialità per poter costruire, per cui l'evoluzione è molto veloce ed ha sicuramente molte opportunità. Quello che abbiamo colto sia l'anno scorso e che stiamo cogliendo anche quest'anno, parlando con i visitatori che hanno visitato il nostro stand, è proprio il trasparire della volontà di avere un prodotto diverso e un prodotto soprattutto fatto con determinati canoni con una certa qualità e prodotto in Italia. Per cui il focusing principale, la prima domanda che viene posta a noi come produttori di schermi è proprio se produciamo in Italia tutti i prodotti che presentiamo in questa fiera. Per cui il made in Italy per noi è assolutamente da sottolineare in questo ambiente in cui è fondamentale come aspetto. Per cui noi siamo un'azienda che produce schermi per la videoproiezione ed elevatori per videoproiettori e accessori chiaramente anche motorizzati per gli schermi. Produciamo tutti i nostri prodotti nel nostro stabilimento produttivo a Udine e esportiamo in tutta Europa, nel Medio Oriente, ovviamente abbiamo anche un mercato casalingo, però tendenzialmente esportiamo per la maggior parte i nostri prodotti. In questo contesto il prodotto più nuovo e più interessante è sicuramente quello che noi chiamiamo da lì ed è uno schermo motorizzato che ha la possibilità di essere incassato all'interno di un controsoffitto e che va ad integrarsi completamente all'interno del controsoffitto e rimane completamente scomparsa una volta chiuso lo schermo. Per cui è dotato di uno sportello automatico che tramite una doppia motorizzazione si apre automaticamente, la seconda motorizzazione fa scendere lo schermo per la videoproiezione e poi nel momento in cui va richiuso tutto al termine della proiezione il telo risale e lo sportello automaticamente si richiude lasciando un'applicazione, un'installazione assolutamente pulita senza fori visibili nel soffitto chiaramente dell'ambiente in cui è installato ed è un prodotto molto interessante sia a livello residenziale che a livello AV Professional che può essere integrato in diverse soluzioni.